Un altro itinerario arabo normanno organizzato dalla Fondazione Federico II non poteva non partire appunto da Mazzara del Vallo, città predisposta appunto in questo senso? Beh, poteva partire da tanti altri posti, però credo che un pizzico di orgoglio sia giustificato nel dire che è partito proprio da questa città, terra nella quale sono sbarcati gli arabi, terra nella quale i normanni hanno avuto un grande ruolo non soltanto dal punto di vista architettonico urbanistico ma anche dal punto di vista istituzionale. Mi piace ricordare che gli arabi sbarcano a Mazzara nell'827 e Mazzara del Vallo diventa una capitale. Mi piace ricordare che Ruggero I il Gran Conte fece un'assise nella cattedrale della nostra città che fu dagli storici individuata come una primordiale forma di Parlamento e nel 1997, 900 anni dopo, abbiamo potuto celebrare nella nostra città la ricorrenza. È bella questa idea della Fondazione Federico II e voglio particolarmente ringraziare sia il Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, l'On. Ardizzone, che il Direttore della Fondazione, l'On. Francesco Forgione, che veramente hanno voluto onorare questa città, hanno voluto in un certo senso riconoscere che la Sicilia non è fatta soltanto di economie tradizionali ma anche di grandi potenzialità, abbiamo una grande materia prima che è legata alla tradizione, alla storia, alla leggenda e bene sta facendo la Fondazione a immaginare di trasformare queste nostre vocazioni in una sorta di grande ambizione che può essere messa anche sul piano della programmazione economica, persino con la logica industriale. Onorevole, un itinerario questo molto importante che vede anche la possibilità di entrare anche questo a far parte dell'UNESCO come patrimonio internazionale? Guardi, c'è la candidatura ufficiale a patrimonio dell'UNESCO che riguarda le cattedrali di Cefalù, Monreale e Palermo. Poi però attorno a questa candidatura, che ormai è l'unica dell'Italia per il 2015, quindi siamo sicuri che verrà riconosciuta, riconosciuta, noi crediamo che bisogna valorizzare tutto il patrimonio arabo-normanno e la partenza da qui, da Mazzara, lo diceva prima il vostro sindaco, l'Onorevole Cristaldi, non è casuale, qui non si parla solo della storia, si parla del presente e del futuro quando si pensa alle contaminazioni culturali del Mediterraneo e poi mi piace ricordare che partiamo da qui anche non per un riconoscimento all'Onorevole Cristaldi, ma certo, lui la fondazione la conosce bene perché la progettò, la pensò e in un certo senso è una sua creatura, ma questa fondazione per anni ha vissuto come fondazione un po' palermitana, ecco da quando io sono direttore stiamo provando ad aprirla sul territorio, la mostra del Gattopardo è andata a Messina, l'itinerario federiciano ha attraversato tutta la Sicilia orientale e questo itinerario parte da Mazzara perché attraversa i luoghi della cultura, della storia, dell'arte, dell'architettura arabo-normana e questo è un patrimonio unico, solo la Sicilia ha il patrimonio arabo-normano, gli arabi hanno lasciato in Europa tante tracce della loro presenza, penso all'Andalusia, alla Spagna, alla Lambra, alla Moschia di Cordova, ma non c'è un patrimonio arabo-normano, questo è solo nostro e partire da Mazzara vuol dire non riconoscere quello che è di Mazzara, ma vuol dire partire nel luogo del passato e del presente dove la convivenza, la contaminazione ci parla del futuro e questa è la bellezza di questo luogo e l'orgoglio nostro, lo dico davanti al sindaco, l'orgoglio della fondazione di essere qui a Mazzara e di essere anche con lui stasera. Un altro itinerario arabo-normano passa da Mazzara del Vallo, manifestazione organizzata dalla fondazione Federico II, grande importanza quindi dare a Mazzara in questo circuito turistico in tutta la Sicilia. Rivolgiamo un grande applauso alla fondazione Federico II per la splendida iniziativa nel valorizzare queste due mirabili civiltà, ossia quella araba e quella normanna. Un altro itinerario che parte proprio da Mazzara del Vallo e trova il suo naturale epilogo nella superba Palermo. Una storia mai sopita, sempre in auge, che tende proprio a creare una sorta di trassicurazione e rivoluzione nell'ambito nostro territoriale, perché questi territori con queste due civiltà non saranno più visti per l'appunto come avamposto di altre dominazioni, ma troveranno la centralità istituzionale che meritano. Ecco che un popolo senza la sua storia non vive a stento il suo presente e non costruisce alcun futuro. A tutti quindi auguro la visione interpretativa di questi valori, quelli che afferiscono alle due civiltà, arabo-normanna, per edificare le coscienze e costruire ogni società civile. Canto a me Gianfranco Zanna, uno dei responsabili dell'evento di oggi qui a Mazzara del Vallo, quindi un altro itinerario arabo-normanno. Era impossibile non includere Mazzara del Vallo, immagino? Ovviamente, anzi siamo volutamente partiti a Mazzara del Vallo come uno dei più belli di questi siti che vengono giudicati minori, ma minori non lo sono affatto. Non a caso noi abbiamo voluto intitolare questo itinerario un altro itinerario arabo-normanno. Perché un altro? Perché ormai è noto che a giugno l'UNESCO quasi sicuramente riconoscerà come patrimonio dell'umanità l'itinerario arabo-normanno di Palermo e delle cattedrali di Cefalù e di Monreale. In questo itinerario c'è la Cappella Palatine e Palazzo Reale, siti che come Fondazione Federico II noi gestiamo da tantissimi anni, come ci permettiamo di dire come siti di eccellenza e come una straordinaria testimonianza della cultura, dell'architettura e dell'arte arabo-normanno. Allora abbiamo voluto accendere dei riflettori su quel patrimonio che è conservato e tutelato e che bisogna far conoscere e valorizzare che da Mazzara del Vallo a Castelvetrano a Cefaladiana è un'altra grande preziosità e bellezza della nostra Sicilia. Uno sprint insomma per il turismo anche in questi luoghi? Sì, una promozione anche perché i meccanismi dell'UNESCO prevedono che dopo un riconoscimento altri siti si possono aggiungere e per quanto ci riguarda questi siti non hanno nulla di meno che di quelli che avranno sicuramente a giugno il riconoscimento prestigioso da parte dell'UNESCO. Quindi noi ospitiamo e vogliamo lavorare perché questi siti, dalla Cattedrale di San Nicolò Regale ai bagni di Cefaladiana, a Maredolce a Palermo, alla Cuba di Palermo, diventino anche essi patrimonio dell'umanità come straordinaria eredità del nostro passato ma per scommettere sul futuro di questa splendida nostra isola.